Buongiorno a tutti, mi sto recando nella mia mega palestra per tanti personal e allenamenti diversi e oggi volevo parlarvi di un concetto importante, il cibo come un farmaco. Non è un concetto facile in Italia perché capisco che tutto viene molto nascosto fondamentalmente, se meno se ne sa meglio è, però onestamente io penso che siano cose che tutti noi dobbiamo sapere, poi magari quando sarò antiana e capirò che non c'è più nulla da fare per questo argomento, mi chiuderò in uno studio come massofisioterapista, non lo so, ma io credo ancora fortemente, positivamente, che tutti possano sapere e che tutti possano guarire. Allora, prendere il cibo come un farmaco e l'acqua come essenza di vita è fondamentale. Tre quarti della popolazione mondiale muore di fame, tutte le malattie del mondo sono nell'altro quarto e quindi c'è qualcosa che non va, è chiaro, no? In questi video cercherò di spiegare come riuscire a spendere il meno possibile e a stare bene al meglio. Grazie, buona giornata! Grazie, buona giornata!